Fedez torna a farsi intervistare dopo settimane di assenza dai riflettori mediatici. Anche sui social ha ridotto la sua presenza dopo essere stato coinvolto nel caso degli Ultras milanesi senza essere indagato. Inoltre la sua ex moglie Chiara Ferragni è stata vista con Giovanni Tronchetti Provera, uno degli eredi più ricchi d'Italia. Il rapper è stato ospite alla trasmissione radiofonica La Zanzara su Radio 24, condotta da Giuseppe Cruciani. Il giornalista ha posto domande scomode, incluso il legame di Fedez con la madre dei suoi figli. Cruciani ha fatto riferimento al fatto che la trasmissione va in onda vicino al palazzo Pirelli, gestito dai Provera. Fedez ha scherzato riguardo alla nuova relazione di Chiara Ferragni e ha difeso il suo rapporto con un Ultras milanese arrestato. Ha sottolineato che non commette reati e frequenta chi vuole. Inoltre ha parlato di politica, preferendo il generale Vannacci alla segretaria del PD Ellie Schlein. Tuttavia, Selvaggia Lucarelli ha smontato le sue affermazioni, sottolineando il successo del PD rispetto al partito di Vannacci. La presenza di Fedez nei media è tornata a far parlare di sé, tra gossip e politica. Il rapper ha affrontato le domande con ironia e sicurezza, difendendo le sue scelte e le sue amicizie. Resta da vedere come reagirà alle prossime polemiche.